È il desiderio che tutti noi dobbiamo avere per la partita di domani. È chiaro che vogliamo tornare alla vittoria, vogliamo farlo a San Siro dove non ci usiamo da un po' di tempo e se lo vogliamo lo dobbiamo fare attraverso una prestazione sicuramente con qualità, con scelte precise. Credo che nell'ultimo quarto di campo, nelle ultime partite casalinghe, siamo stati meno qualitativi del solito e spesso quelle zone di campo invece terminano il risultato, quindi è lì che domani dobbiamo essere più bravi. Mario ha sofferto tantissimo il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, ha sofferto tantissimo il fatto di non riuscire ad aiutare la squadra, è arrivato con un grande entusiasmo, con grande volontà, sulle sue qualità morali e tecniche. Non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto in quella direzione ne conferma i valori. È un giocatore che adesso ci può aiutare e ci aiuterà da qua alla fine. Domani c'è Milan-Genova. Noi abbiamo parlato solo della nostra partita, solo della nostra preparazione, abbiamo in testa solo i 95 minuti da disputare domani. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere pronti a superare un avversario che si mette bene in campo, che ha delle buonissime qualità, che con il nuovo allenatore ha ottenuto risultati importanti. Quindi nella testa noi abbiamo solo la nostra gara e siamo concentrati su quello e dobbiamo interpretarla con grande attenzione e con grande determinazione per tutti i 95 minuti. Gigio sa benissimo quanto è importante la partita di domani, tutta la squadra lo sa. Viene facile per me dire in questo momento che l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, ma poi dopo abbiamo la verifica più importante quella di domani. Quindi siamo solamente concentrati sulla partita di domani. Poi sulle altre situazioni credo che devi avere la fortuna di avere una società alle spalle molto attenta a tutte le situazioni individuali, a tutte le prospettive. Credo che Maldini abbia parlato domenica scorsa o sabato scorso al primo partito del PAM in maniera opportuna, dicendo le cose come stanno. Quindi noi pensiamo solamente al campo e su quello siamo concentrati. Tutti qua dentro a Milanello, quando parliamo della partita, quando parliamo di calcio vedo tutti molto concentrati. Mi sembra che all'esterno forse l'argomento è un po' noioso e quindi si preferisca parlare di alto, ma non qui a Milanello. Il Genoa è una squadra completa, è una squadra che sa tenere bene il campo, sa occupare bene le posizioni. Gioca in calcio non predilige di solito un grande possesso palla, ma gioca in calcio molto verticale, avendo degli attaccanti bravi sia a attaccare la profondità, sia a far salire la squadra. Ha un centrocampo dinamico con un giocatore davanti a difesa molto intelligente che è allenato, Bade, che sa giocare molto bene, che sa smestare bene il gioco. Quindi è una squadra fisica, è una squadra difficile da superare sicuramente e quindi, ripeto, la nostra prestazione dovrà essere di buon livello.